non è morto ciò che in eterno può attendere e col passare di strani eoni anche la morte può morire redatto nell'ottavo secolo a damasco da un pazzo iemenita questo è un libro maledetto demoniaco soprattutto è un'opera frutto della fervida fantasia di Howard Philip Lovecraft fondamentale per gli amanti del genere horror gotico indispensabile per approcciarsi al maestro di Providence